Sarà sfida a due a Caltabellotta per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno prossimi, dopo l'ufficializzazione nelle scorse settimane della candidatura a sindaco di Roberto D'Alberto. Oggi è la volta di Biagio Marciante, attuale vice sindaco della giunta guidata da Calogero Cattano. È un atto di responsabilità perché dopo un percorso lungo ormai dieci anni, prima all'opposizione e poi cinque anni in amministrazione con l'attuale sindaco Cattano, aver lavorato per la comunità ad oggi mi porta a fare questa riflessione, quindi una riflessione che mi fa ripercorrere quelli che sono stati questi dieci anni, tutte le iniziative e i progetti che sono state realizzate e i risultati, risultati che ci lasciano ben sperare e che quindi ci spronano ad andare avanti e continuare su questa strada. Voi avete provato a convincere il sindaco Cattano a ricandidarsi? Sì, diciamo che col sindaco intanto c'è un bellissimo rapporto, in questi cinque anni si è creata una bella sintonia, siamo stati al suo fianco, lui al nostro fianco a guidarci e a portare avanti delle iniziative che anche se inizialmente potevano avere delle visioni diverse, poi ci siamo amalgamati perché comunque c'era anche un fattore generazionale che in una prima fase poteva sembrare un ostacolo ma che invece si è rivelato essere un tutt'altro. Una candidatura al sindaco, quella di Biagio Marciante, che non è solo in continuità ma punta ad una nuova progettualità. È ovvio che il processo diventa anche nuovo perché in questi cinque anni ci siamo concentrati su alcuni tipi di interventi, ora sicuramente sarà opportuno parlare di altri tipi di interventi e quindi anche a livello strategico mettere in atto una serie di iniziative che intanto vedano la comunità al primo posto, perché il punto forte del nostro programma è la comunità, la definizione stessa di comunità diventa un punto di forza perché siamo un piccolo paese ma questo non lo dobbiamo mai vedere come un punto negativo ma anzi come un punto di forza. Siamo una comunità che condivide gli stessi obiettivi quindi non può dividersi su quello che è il bene del paese. Abbiamo visto come attraverso il coinvolgimento pieno si sono portate avanti delle iniziative che hanno avuto dei risultati eccezionali. Non per ultimo abbiamo visto con Caltabellotto e Città Presepe cosa è successo. Questo è stato reso possibile non soltanto perché c'era una volontà dall'amministrazione ma proprio dalla collaborazione dei cittadini, delle associazioni che hanno perseguito un obiettivo comune. Nonostante per esempio siano stati degli anni difficili, ricordiamo il Covid, ricordiamo la crisi economica, le guerre e via dicendo, a Caltabellotto sono veramente decine le attività nuove che si stanno aprendo, alcune sono già avviate ed altre sono in cantiere, per esempio nel nuovo bando di quest'anno sono più di 10 i progetti presentati. A meno di sorprese saranno due dunque protagonisti della campagna elettorale per le elezioni che porteranno Caltabellotto ad avere un nuovo sindaco, un nuovo consiglio comunale. Credo che sarà una campagna elettorale abbastanza serena anche perché gli argomenti che noi porteremo avanti sono quelli che già tutti conoscono. Il programma, come dicevo, in corso di definizione resterà un programma aperto verranno organizzati anche dei tavoli per coinvolgere, come dicevo, gli attori principali del territorio e nei confronti dell'altra lista e soprattutto del candidato, essendoci un rapporto di amicizia e di stima reciproca, credo che ci concentreremo soltanto sui temi politici.